E poi un pallone per Schillaci tra due avversari sulla ribattuta Giannini e a terra un giocatore secoslovacco Giannini da Baggio e a terra Bielic triangolazione Baggio Baggio che converge Baggio, Baggio, Baggio finta di Baggio tira grandissimo gol di Baggio grandissima impresa di Baggio veramente bravo ha fatto una cosa che veramente fa esplodere giustamente l'Olimpico rivediamo fa partire lui l'azione cercando Giannini gli dà la palla Giannini salta il primo avversario e va verso il centro vedete come c'è la palla attaccata al piede finta anche il secondo aspetta il tiro e rimette la palla fa sedere il portiere sul palo opposto a quale dove si è buttato il portiere fantastico è un pezzo da antologia calcistica vedete la finta sull'ultimo difensore e poi la battuta in controtempo sull'accenno di uscita del portiere una prodezza eccellente rivediamo ancora immagini che si commentano da sole e qui è il pezzo forte come ha fatto girare l'avversario ha trovato il tempo di calciare proprio mentre questi rinveniva e il portiere ormai si aspettava la palla sul palo lontano come avviene solitamente invece ha cercato il difficile ed ha messo la palla a rientrare con l'interno sul primo palo impossibile guardate il portiere che si butta e la palla sull'altro palo